Allora, mi dici come va? Allora, è grande! Si lavora, eh? Si lavora. Però i colleghi sono carini, mi vogliono bene, il posto è bello, quindi... Scusa, ma tu chi sei? Ma, Salvatore, ti basta sempre scherzare un manager day. Guarda che non ti capro più quando ti rubo le palline da Tennis. Hai capito, Salvatore? Quello di so da contino, proprio. E' un'attività di me che gli andavi anni. Mi trovo i soldi tra una settimana che dopo te arriva. Ah, che pensi di fare? Eh, che ne so. A me mi dispiace soprattutto da Tennis. Prima ho licenziato e poi li faccio io. A finì che lo vedevo per strada con tutta la famiglia. De qua. E Biagio? Biagio è un'abituale a soffrire. Ma le che passa, ammazza. Chi è? Buonasera. Salve, ma lei lavora qui? Eh? Dico lavora qui. Ah, sì. Eh, certo. Bene, usici da lei un'informazione. Sì.